Il Master EMOS, European Master in Office of Statistics, nasce dalla collaborazione tra Eurostat, istituti di statistica ufficiale e università di diversi paesi europei. Istat e Università Toscane partecipano fin dalla prima edizione al percorso EMOS, ovvero dal 2016. Hanno formato oltre 200 studenti e ospitato più di 50 tirocinanti nelle stanze dell'istituto. Gli studenti hanno background formativi molto diversi tra di loro, si va dall'agricoltura sostenibile al business management e vengono anche da paesi molto lontani tra di loro, dall'Angola alla Germania al Brasile. Hanno in comune questi studenti di non conoscere il significato della statistica ufficiale. Alla fine del percorso EMOS hanno avuto l'opportunità di conoscere le fonti, i metodi e i criteri di qualità della statistica ufficiale sono diventati quindi i cittadini più consapevoli in quanto usano la statistica come bene pubblico.